Ciao a tutti ragazzi, come sapete io sono Francesco Pusco e oggi vi andrò a questo interno di una settimana. Cominciamo! Abbiamo delle panze, guardate cosa può fare. Sshhh, scusate sono mia nonna e mia sorella che non fanno nemmeno un pizzico di silenzio. Scusatevi. Poi abbiamo un altro elefante, prendo prima che ti chiedevo. Mi prendo il tutto. Guardate, sono un sacco di marie, cioè l'ultimo c'è, aspettare. Adesso tutti gli maricoli cornelli, il top del Tè, la sovanna gazzelle. Altra gazzella a origine. L'olio, l'okapi, un cucciolo di l'okapi. Aspettate, portatevi chiaramente. Poi, 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 ah sì, il cucciolo di zebra. Dovebbero essere anche un zepra. Zepra, che beve. Scritch. Non teniamo perché non zepri. Altra zepra. L'ultima, un cucciolo. A non mettere questo in mano, la savana. Aspettate che ho vittorato di camera. Non so se dove si posta, per vedere la savana. Ops. 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 ah c'è ancora tanto tempo sono qua in basso, li vedete? eh no, poi li vediamo che adesso poi abbiamo il dipendente un altro cucciolo di elefante 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 anche Marco scusate che è mia nonna che mi costringe a farlo finire anche se manca Anche se ho ancora tanti terrestri Ancora un pochino e poi spengo Ok ragazzi faccio gli ultimi 6 minuti Ok no ma non è la sua Ah! Questo storico è un po' così Mi giocano con spazzola E' un giocatore del prof E' un pochino E' un pochino Speriamo con i serpenti E' un pochino 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 Ma cosa sono queste schipezze? Sono animali E abbiamo una colla aperta Un cerco L'iguana E' un pochino Il gigante africana Il mamba nero E' un basilisco verde africano Abbiamo ancora pochi animali Un'altra città Ma io mi scordo sempre tutto Ragazzi Basta continuare così E' un pochino E' un pochino e io la faccio sono più buoni e io sono un po' quindi sono due e io non fanno parte di loro e io non fanno parte e qui 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 ed infine come tre oggi Oggi mettiamo questi ultimi 5 animali, poi dopo facciamo la seconda parte, metto gli ultimi animali e poi facciamo la seconda parte, questo qua, questo qua, opps, è capito, e qua, è passato, ciao, ci vediamo al prossimo video!